In primo piano la cronaca giudiziaria si svolgeranno domani l'interrogatore di garanzia degli indagati coinvolte nell'inchiesta della procura di potenza sui presunti maltrattamenti al centro di permanenza e rimpatrio di Palazzo San Gervasio e domiciliare un ispettore di polizia. L'avvertenza che vede coinvolti i lavoratori TS dell'area industriale di Melfi ci sono ancora due mesi di contratto di solidarietà poi nessuna certezza per il futuro e quanto emerso dall'incontro che si è tenuto in regione con aziende e sindacati. Erosione costiera, allarme e mareggiate a scansano ionico dopo le abbondanti piogge di questi giorni. Il comune ha disposto alla chiusura di una strada dal presidente della provincia marrese appello alla regione affinché si intervenga. Ancora tre mesi prima dell'applicazione delle nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale scongiurata per ora la situazione denunciata da Anisap, Federbiology e Federlab che temono gli effetti di un previsto ribasso e nuove difficoltà per le strutture private e per gli utenti. La crisi al comune di scansano ionico, il vice prefetto vicario di Matera Lubrano nominato commissario, clima politico pesante, spuntano scritte contro i sette consiglieri che si sono dimessi. Buon pomeriggio dallo studio della nuova TG per i trovati a questa prima edizione del nostro telegiornale. Dunque lo ascoltavamo dai titoli, in apertura c'è la cronaca giudiziaria con l'inchiesta sui presunti maltrattamenti all'interno del centro rimpatrio di Palazzo San Gennaro. Dall'ordinanza del GIP Antonello Amodeo emergono ulteriori contestazioni nei confronti dell'ispettore di Polizia finito ai domiciliari accusato anche di aver falsamente attestato decine di pernottamenti sul posto di lavoro per incassare una diaria giornaliera più alta. Per i particolari sentiamo Fabrizio Di Vito. Migranti sedati o storditi con veri e propri cocktail di psicofarmaci, servizi previsti da contratto ma mai eseguiti dalla società che gestiva la struttura, violenze e maltrattamenti di ogni genere. È uno scenario davvero inquietante quello che emerge dall'inchiesta della Procura di Potenza sul CPR di Palazzo San Gervasio che ha portato ai domiciliari l'ispettore di Polizia Rosario Olivieri accusato di violenza privata pluriaggravata, falso ideologico, calugna e truffa aggravata ai danni dello Stato. Quest'ultima accusa è riferita al filone di indagini riguardanti i presunti falsi pernottamenti dell'ispettore presso due alberghi non lontani dal CPR per attestare falsamente la sua presenza a nottetempo sul luogo di lavoro e incassare così una diaria giornaliera di quasi 8 euro lordi in più. Filone che vede coinvolti anche i due albergatori ed ha portato al sequestro preventivo di oltre 8.000 euro. Di questi poco più di 1.300 sarebbero stati indebitamente incassati dal poliziotto e i restanti 7.000 dei due alberghi per il pagamento da parte dello Stato di stanze in realtà mai occupate. Tornando invece agli episodi di violenza e maltrattamenti avvenuti all'interno del centro per il rimpatrio lucano, spicca quello del 30 novembre 2021 quando un ospite tunisino della struttura fu costretto a bere un cocktail di psicofarmaci. Un grave episodio venuto alla luce circa un anno fa dopo un servizio mandato in onda da Striscia alla Notizia e dopo il quale Olivieri avrebbe provato ad evitare contestazioni nei suoi confronti firmando una relazione inviata in procura attraverso la quale giustificava il suo comportamento come una conseguenza di gravi intemperanze da parte del tunisino. Ricostruzione che per il GIP non è aderente ai fatti ed è smentita dalla relazione presentata dal superiore dell'ispettore. Rosario Olivieri ha atteso domani davanti al GIP Antonella Modeo e al pubblico ministero per l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale dovrà decidere se rispondere o meno alle domande degli inquirenti per provare a chiedere la sua posizione rispetto ai fatti contestati. Ancora cronaca sono scattati i domiciliari per tre giovani lucani ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di droga e tre avrebbero ignorato l'alt dei carabinieri ad un posto di blocco lungo la statale 106 Ionica all'altezza di Palagiano tentando la fuga. Ne è scaturito un inseguimento durante il quale i giovani originari della Basilicata di cui gli inquirenti non hanno fornito, però le generalità hanno gettato dal finestrino dell'auto circa 400 grammi di sostanza stupefacente tra ascisce e marijuana successivamente recuperata dai militari. La fuga è terminata a Ginosa Marina dove nel frattempo erano intervenute altre pattuglie dei carabinieri. Le notizie dal mondo di lavoro con la crisi dell'indotto Stellantis che ha portato all'apertura della vertenza ITS che vede coinvolti i lavoratori della società dell'area industriale di Melfi. Ci sono ancora due mesi di contratto di solidarietà, poi nessuna certezza per il futuro e questo quanto è emerso dall'incontro che si è tenuto in regione con azienda e sindacati. Vittorio Laviano. Non c'è nessuna garanzia occupazionale per il futuro dei lavoratori ITS di San Nicola di Melfi ma solo i fondi necessari per altri due mesi in contratto di solidarietà. Questo è il quadro poco incoraggiante emerso dall'incontro in regione tra l'assessore Casino, i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali. Aspettavamo anche risposte in merito agli ammortizzatori sociali rimasti nel quinquennio mobile utilizzabili da parte della stessa azienda. E da verifiche dettagliate, avanzate anche dalla regione Basilicata, risultano ancora due mesi disponibili di contratto di solidarietà. Ma ovviamente il problema rimane anche perché la stessa azienda senza mezzi termini ha ribadito nuovamente che se non arrivano nuove prospettive, quindi nuove lavorazioni attraverso l'acquisizione di nuove commesse, andrebbe enormemente in difficoltà in funzione proprio della sostenibilità di un eventuale contratto di solidarietà in deroga. E dal tavolo in regione non si è parlato solo della vertenza ITS. Noi come Fismic abbiamo espresso senza più riserve la gravità della situazione all'assessore, non solo per quanto riguarda l'ITS, ma anche per quanto riguarda altre vertenze che sono già dietro l'angolo, come quella della FDM e della Lassa Automotive, avendo avuto già una convocazione urgente da parte di Confindustria, dove il tema sarà la situazione dell'appalto del magazzino e delle minuterie, dove all'interno lavorano circa 100 lavoratori. Infatti è partito già da ieri un presidio davanti ai cancelli da parte dei lavoratori per manifestare il loro dissenso e la loro preoccupazione di quelle che potrebbero essere una comunicazione che possa mettere a rischio il loro futuro ovviamente occupazionale. Per questo abbiamo anche voluto ribadire quanto sia importante che le istituzioni regionali facciano leva a livello nazionale, anche in funzione dei tavoli già programmati a livello ministeriale nel mese di gennaio e di febbraio, come stiamo facendo noi, e quindi che gli incentivi, se proprio dovranno essere utilizzati, dovranno servire a garantire il lavoro in Italia e nello specifico per quanto riguarda la zona industriale di Melfi, garantire il lavoro al nostro indotto, attraverso l'approvvigionamento ovviamente delle future commesse, altrimenti, come abbiamo sempre denunciato, l'impatto sociale legato alla perdita occupazionale sarà enorme, enorme. Dopo il bonus gas, la giunta regionale della Basilicata, grazie alle compensazioni ambientali derivanti dagli accordi con le compagnie petrolifere, ha adottato provvedimenti per abbattere anche la bolletta dell'acqua. La misura è stata illustrata oggi a potenza dal presidente della regione Vito Bardi, affiancato dai componenti della giunta. Il beneficio riguarderà circa 70 mila famiglie con l'ISEI inferiore a 30 mila euro. Abbattimento dei costi a partire dal febbraio. Il progetto punta l'abbattimento totale dei costi attraverso la realizzazione di tre impianti fotovoltaici al servizio di Acquedotto Lucano che consentiranno la riduzione delle spese energetiche dell'ente gestore della risorsa idrica. A scansano ionico causa mareggiate degli ultimi giorni, si è aggravato il fenomeno dell'erosione costiera. Per ragioni di sicurezza l'ufficio tecnico del Comune ha disposto la chiusura di una strada. Dal presidente della provincia di Matera, Piero Marrese, appello alla regione, servono fondi e interventi immediati. Lucia Pietrafesa. Le ultime mareggiate hanno fatto arretrare ancora il profilo del litorale in località Terzo Madonna a scansano ionico, un arretramento che è sotto gli occhi di tutti. Legambiente già da tempo aveva lanciato l'allarme, mappando quell'angolo di costa dove sono stati rilevati i più alti livelli di erosione. Le recenti mareggiate hanno sottratto oltre 200 metri di spiaggia, cancellando opportunità di sviluppo e anche potenziali posti di lavoro. Il presidente della provincia di Matera, Piero Marrese, ha rivolto un appello all'ufficio regionale programmazione che in queste ore sta decidendo la ripartizione delle somme affinché preveda fondi congrui per combattere il fenomeno erosivo in una comunità come quella di scansano ionico che sta vedendo scomparire il proprio patrimonio naturalistico e ambientale. La giunta Pittella aveva stanziato fondi per circa 7 milioni e mezzo di euro, prevedendo interventi importanti per combattere l'erosione anche nel centro ionico. Fondi poi revocati lo scorso anno dall'attuale esecutivo regionale guidato da Bardi. Oggi, anche a causa di quel provvedimento di revoca e del conseguente mancato intervento sul litorale di Scanzano di Chiara Marrese, assistiamo a un aggravamento del fenomeno erosivo. In attesa di risposte la preoccupazione rimane. Intanto, proprio a causa dell'erosione, il Comune ha emesso un'ordinanza con la quale è stata interdetta la circolazione veicolare e pedonale in località Terzo Madonna, dove nel giro di pochi anni si è passati da quattro stabilimenti balneari a zero. Il Comune di Pomarico ha pubblicato un bando attraverso il quale vengono stanziate risorse a cui attingere quale rimborso della Tare del 2023. Il contributo va da 50 a 100 euro. La misura agevolativa si rivolge a pensionati con reddito basso e a soggetti e famiglie monoreddito e difficoltà economica. Vogliamo andare incontro a chi ha sempre pagato le tasse, ha spiegato il Sindaco Francesco Mancini. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 16 febbraio sul sito del Comune di Pomarico, i dettagli del bando. Ancora tre mesi prima dell'applicazione delle nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale, scongiurata per ora la situazione denunciata da Anisap, Federbiology e Federlab, che temono gli effetti di un previsto ribasso e nuove difficoltà per le strutture e per gli utenti. Sentiamo Celestino Benedetto. L'ennesima falla della regione basilicata destinata ad impattare negativamente sugli operatori della sanità privata. In questo caso però è la conferenza Stato-Regioni a venire in soccorso. L'organismo ha deciso lo slittamento di tre mesi, dal 1 gennaio al 1 aprile, per l'entrata in vigore delle nuove tariffe che altrimenti da una settimana sarebbero diventate già operative. Dunque ancora qualche mese di attesa e che scongiura per ora la situazione denunciata da Anisap, Basilicata, Federbiology e Federlab con la lettera di Roberto Cicchetti qualche giorno prima di Natale, di una criticità assolutamente preoccupante per gli effetti negativi che ne sarebbero derivati. Per avere un quadro più chiaro, il nuovo nomenclatore tariffario contiene un irrazionale ribasso ulteriore delle tariffe, soprattutto di laboratorio che si attesta a meno 30% rispetto al tariffario Balduzzi, già oggi penalizzante per le strutture ambulatoriali. Un palese quanto accertato elemento di criticità che, secondo la denuncia del presidente Anisap, Basilicata, Cicchetti, metterebbe le strutture ambulatoriali che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario regionale nella condizione di non poter sostenere il ruolo di erogatori di prestazioni. con evidenti e inesorabili problemi, in primis a carico del cittadino. Siamo inoltre convinti, aggiunge, che l'applicazione del nuovo nomenclatore tariffario risulterebbe diseconomico anche per i laboratori delle strutture pubbliche, che vedrebbero aumentare vertiginosamente i costi di gestione in relazione agli incassi estremamente ridotti derivanti dal ticket. Giornata speciale domani al reparto di pediatria dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, l'organizzazione di volontariato Il Piccolo Principe. Domenico Fortunato ha organizzato un evento a favore dei bambini ricoverati nel nosocomio materano. Partecipa anche la questura di Matera, il cui personale incontrerà i piccoli ospiti del presidio ospedaliero, ai quali verranno donate alcuni gadget della Polizia di Stato. Con sede a Teana, l'associazione Il Piccolo Principe. Domenico Fortunato si occupa di assistenza alle famiglie di bambini colpiti da diverse forme di malattie oncoematologiche. E siamo alla crisi al comune di Scanzano Ionico. Il vice prefetto vicario di Matera Lubrano, nominato commissario, clima politico pesante, spuntano scritte contro i sette consiglieri che si sono dimessi. Sentiamo Michelangelo Russo. Il prefetto di Matera Cristina Favigli, a seguito delle dimissioni di sette consiglieri comunali su dodici, ha sospeso in attesa di scioglimento il consiglio comunale di Scanzano Ionico. Il prefetto ha contestualmente nominato il dottor Vincenzo Lubrano, vice prefetto vicario della prefettura di Matera, commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune di Scanzano, al quale sono stati affidati i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. La gestione commissariale per la terza volta in poco più di quattro anni dovrebbe, stando a quanto dice l'ormai ex sindaco Pasquale Cariello, avere una durata di circa cinque mesi e terminare a fine primavera, quando dovrebbero essere indette le nuove elezioni comunali, da tenersi probabilmente il 9 giugno. Intanto la paralisi amministrativa ha innescato anche un clima politico velenoso. Tra le varie forze politiche davanti alla sede comunale sono infatti stati affissi dai gnoti dei cartelli considerati offensivi. Nel mirino proprio i sette consiglieri comunali, Altieri, Zuccarella, D'Amico, Sgarrino, Dattoli, Scarnato e Salerno, che a inizio settimana hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'assise. Immediata da parte degli amministratori la segnalazione ai carabinieri. Anche quest'anno la Fondazione Alessandra Biceglia offre ai giovani lucani dai 18 ai 28 anni di età la possibilità di svolgere nella sede di Lavello il servizio civile. Saranno selezionati due operatori a supporto delle attività che vengono svolte a sostegno delle persone affette da patologie rare e dei loro familiari. Gli interessati dovranno candidarsi al bando di servizio civile universale pubblicato sul sito ministeriale del Dipartimento per le politiche giovanili, aderendo al progetto Una rete per il malato oncologico, riabilitazione, orientamento e accompagnamento ai servizi 2024. Il programma è realizzato dalla FAVO, la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, alla quale la Fondazione Alessandra Biceglia è federata. La durata del servizio civile sarà di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e con un assegno mensile per le attività svolte di 507 euro. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la candidatura entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio. Ci spostiamo a Garaguso dove il sindaco del centro del materano Francesco Auletta ha attenuto una conferenza stampa nella sala consigliare per illustrare il bilancio 2023 e quello di previsione 2024-2025. 8 milioni e 800 mila euro l'importo complessivo per lavori in corso d'opera e in fase di gara d'appalto. Vito Sacco. Ammonta oltre 5 milioni e 500 mila euro il valore complessivo del bilancio del comune di Garaguso per l'anno 2024. Lo ha comunicato il sindaco Francesco Auletta durante la conferenza stampa che ha tenuto nella sala consigliare, insieme al vicesindaco Girolamo Costanzo, all'assessora Rosa Marchisella e ai consiglieri di maggioranza Donato Claps, Gianfranco Minchillo e Michele Scavetta. Nella sua relazione il sindaco ha elencato sia i lavori appaltati nel corso dell'anno 2023 e in corso di esecuzione, sia i lavori che nel corso di quest'anno sarebbero stati realizzati per un importo totale di circa 8 milioni e 800 mila euro. Questa sera abbiamo tenuto un incontro alla maggioranza per comunicare alla nostra cittadinanza consuntiva ma molto sommario per quanto riguarda il lavoro fatto nel 2023 e che si è chiuso molto positivamente per noi, soprattutto se vediamo i finanziamenti ottenuti attraverso il PNRR e altri finanziamenti a livello regionale, finanziamenti che vanno a valorizzare non soltanto l'aspetto sociale, culturale ma anche strutturalmente dei servizi all'intera popolazione e credo anche del comprensorio perché noi come Comune di Garacusa abbiamo sempre lavorato nella direzione di coinvolgere tutto il territorio del medio basento. L'attuale amministrazione comunale è a fine mandato e quest'anno si andrà alle urne per eleggerne una nuova. Quale sarà il futuro per il Comune? Allo stato attuale noi ancora non abbiamo fatti incontri per decidere da farsi per il futuro e cioè capisco la domanda se ci sarà la ricandidatura o meno. Naturalmente è ovvio questa squadra che ha il dovere di continuare fino in fondo il lavoro fatto fino adesso altrimenti tutto questo che è stato realizzato va demolito da parte di chi che sia perché occorre pazienza, competenza ma soprattutto amore per il proprio territorio. Uno dei cavalli di battaglia del sindaco Auletta è la sinergia tra i comuni dell'entroterra del Materano e si è speso molto per la costituzione dell'unione dei comuni. Lo stato perché non decolle al 100% in quanto non tutti i colleghi hanno una formazione di solidarietà tra i comuni ma soprattutto quei comuni che non hanno difficoltà economiche che invece dovrebbero essere loro non hanno il treno capo che dovrebbe tirare altri comuni. Invece siamo noi piccoli comuni che dobbiamo stimolarli, coinvolgerli e non mi stancherò fino alla fine di farlo sempre in questa direzione. Sport, calcio, eccellenza. Non perdete la diretta della gara di Coppa Italia Gianfranco Lupo tra la Santa Arcangiolese di mister Alberico Volini e il San Cataldo di mister Gerardo Natale in onda su questa rete alle 14.25. La vittoria del trofeo regalerà la formazione vincitrice e la possibilità di accedere alle fasi nazionali. Giallo-Rossi e Rosso-Blu si ritroveranno di fronte al Martorano dopo il match dell'andata che è terminata sul punteggio di parità 1-1 dopo le reti di Sanna per i Valdagrini e il pari firmato da sabato nei minuti di recupero. A questo appuntamento la Santa Arcangiolese arriva dopo aver eliminato l'Elettra Marconi, il Tricarico e il Policoro. Il San Cataldo invece si prepara all'appuntamento finale dopo aver eliminato il Paternicum, il Lavello e l'Oraziana Venosa. La gara di oggi è curiosamente una sorta di rivincita della passata stagione quando le due formazioni si sono sfidate nella finale di promozione della Coppa Italia Mauro Tartaglia. In quell'occasione fu il San Cataldo ad avere la meglio aggiudicandosi il primo trofeo della sua storia lasciando la vittoria del campionato alla Santa Arcangiolese. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per l'ascolto, arrivederci. Grazie.